Ok dai ce la fai dai su Buongiorno amici di youtube ci siamo finalmente ce l'ho fatta finalmente online dopo un sacco di rimuginare un sacco di tempo ad avere paura di non farcela vincere l'imbarazzo e giudizio della gente finalmente eccomi qui finalmente online benvenuti dunque in questo nuovissimo pazzeschissimo frizzantissimo stupendissimo nonché bellissimo video di youtube vai con la sigla no che in realtà non c'è sigla non c'è nulla di nulla non c'è un'animazione non c'è una sigla non c'è musica nemmeno un segno di caratterizzazione di questo canale siamo solamente io e me stesso dunque cari amici e care amiche sono molto lieto di accogliervi in questo primissimo video di youtube nonché primo video del mio canale voglio specificare che non sarà un canale su recensione di libri sebbene lo scenario possa far intendere questo ma siccome non avevo uno scenario più bello a casa ho detto una bella libreria è sempre gradevole magari all'occhio però così ci teniamo a specificarlo allora come dicevo questo è il primo video il primo video che faccio è il primo video del canale quindi l'ansia e l'agitazione è alle stelle sembra molto fluido molto spontaneo ma in realtà ho un batticuore che mi uccide quindi siete clementi se per caso dirò qualche boiata se balbetterò se non dirò delle frasi molto connesse ma veramente è la prima volta prima volta davanti a una telecamera prima volta di tutto quindi spero di essere all'altezza delle vostre aspettative dicevamo dunque sono marco frigo ho 26 anni sono veneto e abito a milano mio dio che noia queste presentazioni qua ecco io non volevo impostare il video come una classica presentazione con nome cognome età dove vieni colore preferito animale preferito perché è mortale noioso e la gente non lo guarderà mai quindi ho pensato siccome rimuginavo un sacco se aprire il canale o meno intanto do il calcio d'inizio cominciamo pubblico questo video e poi vediamo magari più avanti di presentarci in maniera più approfondita così da vedere un po' di conoscerci meglio anche perché come si suol dire chi ben comincia è già a metà dell'opera dunque non ho effettivamente ancora un piano ben definito per questo canale cosa pubblicherò che taglio darci ho tante idee di tanti video tante cose da voler mettere tutte subito perché non ho la pazienza però effettivamente una caratteristica principale per questo canale non ce l'ho so che non è molto per cui stimolare la vostra curiosità ma col tempo impareremo a conoscerci imparerò a conoscervi e voi me e col tempo spero di capire cosa voglio cosa vorrete voi così da magari da essere un po' più più interessante in questi video quindi altro effettivamente da aggiungere non ho se non che se per caso la mia bellezza e la mia pirlaggine vi ha un po' colpito iscrivetevi, mettete un bellissimo like, taggatemi, parlatene, diffonete il verbo io sono anche i miei altri social sono su instagram come frigogram e su facebook come marco frigo e lì i contenuti sono più vari e un po' più interessanti da stalkerizzare sicché dateci dentro e seguitemi ovunque quindi come dicevo iscrivetevi in tanti, diffonete il verbo, parlatene con tutti, fatelo altrimenti vi aizzo conto a questa bestiaccia feroce amore siamo online, hai visto? Dio che gioia! ciao amici! ok comunque a parte gli scherzi seguitemi, stay tuned perché sicuramente i contenuti ci saranno molto interessanti, molto divertenti, molto irriverenti magari ma sicuramente molto belli da seguire quindi tanti baci e a presto vupi! cazzo vupi! 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 eccoci amici di youtube, lei la mia bambina grande la mia bambina, adesso sei anche su youtube mamma mia quante cose che fa questo cagnolino la mia principessa, ho cercato anche di trovare la fama grazie a lei e ve ne parlerò molto presto è vergognosa, non vergognarti dai ecco, ciao ma come sei bella la mia creaturina oh santo dio ma sì ecco, ecco, ecco ciao amici, ciao! ecco, 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 ecco ecco, 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 ecco ecco